Avevamo concluso il video precedente dicendo che prima di sera vengono occupate tutte le tipografie e la notte del giorno successivo vengono presi punti nevralgici di Pietro Grado, quali poste, telegrafi, stazioni ferroviarie, banche e ministeri. Possiamo procedere. Il governo provvisorio cessa di esistere senza alcuna resistenza. Kerensky fugge verso il fronte a bordo di un'auto dell'ambasciata americana per cercare rinforzi mentre gli altri ministri si rinchiudono nel palazzo d'inverno che sarà espugnato poche ore dopo e i ministri arrestati. La sera del 7 novembre, il 25 ottobre del calendario giuliano, Lenin annuncia il successo della rivoluzione al secondo congresso dei soviet e in questa sede viene conferito agli stessi soviet l'incarico di governare la nazione. Dopo sanguinosi scontri anche Mosca cade nelle mani dei rivoluzionari il 15 novembre, il 2 novembre del calendario giuliano. I primi atti formali del governo dei soviet sono i seguenti. Il primo, il decreto sulla terra che prevede l'immediata distribuzione senza indennizzo delle terre dei lati fondisti ai contadini privi di terra. Il secondo, il decreto che prevede l'apertura immediata di trattative di pace con tutte le nazioni belligeranti, ovviamente siamo nella prima guerra mondiale, è un immediato amministizio di almeno tre mesi. Il terzo, la sostituzione del vecchio sistema giudiziario con i tribunali del popolo elettivi. Il quarto, la sostituzione della polizia con una milizia composta prevalentemente da operai. Il quinto, viene sancita la totale separazione tra stato e chiesa. Il sesto, viene introdotto il divorzio e il matrimonio civile con uguali diritti per entrambi i coniugi. Il settimo, viene sancita la totale parità di diritti tra uomo e donna. L'ottavo, viene introdotta la giornata lavorativa di otto ore. Il nono, nell'esercito vengono cancellate le differenze di trattamento fra soldati e ufficiali. Il decimo, vengono nazionalizzate tutte le banche private. L'undicesimo, il commercio estero diventa monopolio dello Stato. Il dodicesimo, la flotta mercantile e le ferrovie diventano statali. Il tredicesimo, le fabbriche vengono date in gestione agli operai. Il quattordicesimo, viene sospeso il rimborso dei prestiti ottenuti all'estero dal regime zarista. Il quindicesimo e ultimo punto, tutti gli accordi internazionali, inclusi quelli segreti, vengono resi pubblici. In particolare, questo riguarda l'Italia, fa molto scalpore a livello internazionale la pubblicazione del Patto di Londra. L'accordo segreto del 26 aprile del 1915 tra il governo italiano e i rappresentanti della triplice intesa, con cui l'Italia si sarebbe impegnata a scendere in guerra contro gli imperi centrali entro un mese dalla stipula del trattato, in cambio di cospicui compensi territoriali. Il metodo della diplomazia segreta era infatti fortemente osteggiato dal presidente americano Wilson che, terminata la guerra, si oppone risolutamente alla completa realizzazione delle rivendicazioni territoriali italiane basate proprio sul Patto di Londra. Kerensky, dopo la sua precipitosa fuga, da settembre del 1917 assume il grado di generalissimo e ritira dal fronte circa 20.000 soldati cosacchi ordinandogli di marciare su Pietrogrado. Una parte di queste truppe, in seguito all'intervento di emissari bolshevichi, viene convinta a unirsi alla rivoluzione e il resto viene sconfitta dalla Guardia Rossa prima di raggiungere a Pietrogrado. Ricordiamo che nel 1922, con la fondazione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, la Guardia Rossa diventa l'esercito del nuovo Stato e prende il nome di Armata Rossa. I bolshevichi, oltre a dover difendere militarmente la loro rivoluzione, devono anche fare i conti con il sistematico sabotaggio messo in atto da tutto l'apparato burocratico e ci vorranno mesi perché i commissari del popolo possano iniziare a gestire gli uffici dei ministeri o delle banche. A partire dal 12 novembre del 1917, nel bel mezzo della rivoluzione, si svolgono le elezioni per l'Assemblea Costituente già previste dal deposto governo Kerensky. Alle consultazioni si presentano quattro liste, i bolshevichi, i menschevichi, il partito cadetto e i socialisti rivoluzionari, dello stesso Kerensky. Le elezioni si svolgono a suffragio universale ma la partecipazione degli elettori è inferiore al 50% degli aventi diritto. Vincono i socialisti rivoluzionali con il 58% grazie al loro controllo dei soviet e dei contadini. Il partito bolshevico tiene il 25% delle preferenze con picchi del 40% nelle grandi città e del 60% nel soviet di Pietrogrado. Il partito cadetto tiene il 14% dei voti e i menschevichi è soltanto il 4%. All'Assemblea Costituente, i cui lavori iniziano il 5 gennaio del 1918, vengono eletti 715 deputati, 370 dei quali socialisti rivoluzionari, 175 bolshevichi, 40 socialisti rivoluzionari di sinistra, una corrente di sinistra fuoriuscita dai socialisti rivoluzionari, 16 menschevichi, 17 cadetti. I socialisti rivoluzionari di sinistra si uniscono subito ai bolshevichi, scelta che consente l'unione tra il comitato esecutivo dei soviet dei contadini, socialista, rivoluzionario di sinistra, e il comitato esecutivo dei soviet degli operai e dei soldati, che era bolshevico invece, dando vita a quello che passerà alla storia come comitato esecutivo centrale pan-russo. Nella prima seduta l'Assemblea Costituente viene proclamata autorità suprema di tutta la Russia e non viene riconosciuto alcun potere ai soviet dei lavoratori, quindi degli operai, contadini e dei soldati. I bolshevichi e i socialisti rivoluzionari di sinistra chiedono all'Assemblea di ratificare tutti gli atti e i decreti precedentemente emessi dai commissari del popolo, che erano bolshevichi, che abbiamo già menzionato, quindi il decreto sulla terra, la separazione tra Stato e Chiesa, l'apertura immediata dei trattative per una pace con i paesi belligeranti, eccetera. I socialisti rivoluzionari e l'area di destra dell'Assemblea, costituita dal partito cadetto e da parte dei menschevichi, rifiutano la richiesta, e in segno di protesta bolshevichi e socialisti rivoluzionari di sinistra abbandonano l'aula. Soltanto due giorni dopo, il 7 gennaio, viene decretato lo scioglimento dell'Assemblea Costituente. Inizia così la guerra civile russa, che vede fronteggiarsi principalmente i bolshevichi con la loro armata rossa, detti i rossi, e i bianchi con la loro armata bianca. Un esercito controrivoluzionario, costituito principalmente da nazionalisti e reazionari provenienti dall'esercito imperiale russo, appoggiato dai rappresentanti dei democratici, dei cadetti e dei socialisti e riformisti sostenitori di Kerensky. I bianchi sono inoltre sostenuti dalle potenze dell'intesa, soprattutto dal Giappone, dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dal Regno d'Italia, che invieranno anche corpi di spedizione. Le forze controrivoluzionarie cominciano a raccogliersi nella regione del fiume Don, e il 9 gennaio del 1918 viene annunciata ufficialmente la creazione della cosiddetta Armata dei Volontari, di cui il generale Corniloff è comandante in capo. Nello stesso mese, in collaborazione con le forze cosacche, l'Armata dei Volontari conquista Rostov sul Don, ma l'Armata Rossa contrattacca costringendola a ripiegare verso sud fino alle foci del Don, dove il generale Anton Denikhin, succeduto a Corniloff, ucciso in battaglia del 13 aprile, cerca di ricostruire l'esercito. Molto bene, questo è tutto, il video termina qui, spero vi sia utile, come sempre vi faccio un grande in bocca al lupo per l'esame o per i vostri studi. Alla prossima!